C'è posta per te, ospiti Emma Marrone e Luca Argentero Sabato 3 marzo in prima serata su Canale 5, torna il People Show condotto da Maria De Filippi Foto, Luca Argentero a.C. è posta per te, credit. Diritti d'autore in Mediaset dopo Michel Winsicker, Gonzalo Higuain, Ermal Meta. L'attore torinese Luca Argentero è già stato ospite del People Show di Maria De Filippi e anche giudice ad Amici. Uscito dal Grande Fratello ha girato 24 film e 5 fiction e da poco, ha fondato una piattaforma, Mi Visto, che offre l'opportunità a registi e musicisti emergenti di mettersi in mostra. La cantante Salentina Emma Marrone è invece una, creatura, di Amici. Il 2 marzo ha pubblicato Effetto Domino, secondo singolo estratto dall'album Essere Qui, uscito lo scorso gennaio e partirà in tour dal prossimo 16 maggio. A consegnare la posta anche questa settimana Chiara Carcano, Maurizio Zabboni, Gianfranco Apicerni e Marcello Mordino, riuscirà anche la settima puntata di C'è posta per te a vincere la sfida degli ascolti. Una media di quasi 6 milioni di telespettatori a puntata, per Canale 5. C'è posta per te. C'è posta per te.